Voterò sì alla fusione tra Ponti dell'Olio e Rigolzone, perché è una grande opportunità per le due comunità di darsi un'amministrazione al passo con i tempi. È un'opportunità, non è una certezza. Sono molto convinto di questa cosa perché ho fatto per due legislature l'amministratore, so quanto è difficile avere una macchina aggiornata, specializzata, perché le attività che deve fare il comune sono tantissime e con il personale che ci si ritrova in queste piccole realtà si fa molta fatica. Molto un'opportunità perché ci saranno fondi per sostenere questi inizi a dire. Sono anche convinto però che possa essere un'opportunità per costruire anche un nuovo modello di cittadinanza, dove il sindaco, la giunta non sono più i terminali di tutti i lamentele, di risoluzione di problemi di breve periodo, non potranno fare il loro mestiere a livello strategico. E' chiaro però che ci vuole una nuova generazione di cittadini che possano in qualche modo trasferire e discutere dei bisogni del Paese e trasferirne attraverso forme di aggregazione differente i bisogni alla parte politica che poi dovrà fare il suo mestiere, anche quello della strategia. Grazie. Grazie.